La serata è importante per l'Europoli. Siamo stati qui il 1 agosto quando abbiamo inaugurato il Parco Giochi che sta riscuotendo grandissimo successo. Infatti in qualsiasi ora della giornata si va sul posto. Il Parco Giochi che abbiamo realizzato su via Paolino Chiricchio è sempre pieno di ragazzi, di gente. Questo ci fa immenso piacere perché significa che abbiamo fatto un'opera che era aspettata e che è stata molto apprezzata al cittadino. Ieri per l'Europoli abbiamo consegnato i lavori per il rifacimento della rete fognante nel ballone Franceschiello perché i cittadini di l'Europoli devono sapere che da qualche anno i liquami fognari di l'Europoli scorrono a cielo aperto verso l'impianto di depurazione di l'Europoli. Ieri abbiamo consegnato i lavori congiuntamente ai lavori del rifacimento della rete fognante ai laghi dei Sibri. Per l'Europoli Franceschiello spenderemo 300 mila euro. Nel corso del periodo della pandemia del Covid abbiamo lavorato, abbiamo programmato, abbiamo progettato e abbiamo anche partecipato a bandi per richiedere i relativi finanziamenti. Per la rigenerazione urbana sul territorio del comune di Cassano Ionio abbiamo chiesto un finanziamento di 5 milioni di euro che abbiamo così distribuito. 2 milioni e mezzo al centro storico di Cassano, 1 milione e mezzo qui all'Europa nella zona di Capolanza, 1 milione a Sibari. Questa sera consegniamo all'impresa Appaltatrici i lavori di rigenerazione urbana della zona di Capolanza e come vedete che non è bitumata, mancano i marciapiedi, mancano i sottoservizi, manca in alcune parti anche l'impianto di illuminazione pubblica. Insomma un quartiere da rigenerare e da urbanizzare. Spenderemo la somma di un milione e mezzo come già ho detto. Ha appaltato il lavoro l'impresa Feve di San Demetrio Corone, peraltro ho appreso questa sera che è la stessa impresa che ha fatto l'ultimo lotto di bitumazione, di urbanizzazione sempre qui a Capolanzi. Quindi è un'impresa che conosce molto bene anche il territorio e questo ci fa immenso piacere. È il lavoro che abbiamo fatto, è il lavoro collettivo, non è soltanto il lavoro del sindaco e dell'Aggiunta. Quindi io voglio ringraziare anche i consiglieri comunali che sostengono la maggioranza, ovviamente gli assessori. È l'ufficio tecnico comunale che ci ha dato la possibilità di poter partecipare ai bandi, di poter lavorare per appaltare i lavori. E questa sera consegnare gli stessi. Quindi è un momento importante di festa per l'Europoli, però è un momento di festa per l'intero territorio comunale. Perché dalle inaugurazioni siamo passati alla consegna di nuovi interventi sul territorio. Dicevo che mancavano cantiere, non c'erano gru e quando parlavo di gru significava che non c'erano iniziative imprenditoriali da parte dell'amministrazione pubblica sul territorio. Stiamo testimoniando con grande impegno che abbiamo invertito la tendenza. Cassano sta diventando un gandiere. Per quanto congene l'Europoli, a breve, credo che nella prossima settimana, consegneremo anche un altro gandiere importante, che è quello della realizzazione delle acque bianche. Perché in sostanza l'Europoli quando piove si allaga. Nello stesso tempo devo anche informare la pubblica opinione che abbiamo appaltato anche i lavori di rigenerazione urbana e di raccolta delle acque bianche, di realizzazione di marce e piedi, di parcheggi, nella zona che va dalla scansata di Cassano fino a tutta via Sibere di l'Europoli. A breve, non appena saranno espletate tutte le procedure formali di legge, consegneremo anche questi lavori all'impresa Paltatrice, che mi pare sia un'impresa di Cassano. Questo ci riempie di soddisfazione. Ovviamente parliamo dei cantieri all'Europoli perché siamo all'Europoli. A Cassano abbiamo consegnato alcuni interventi nei giorni passati, abbiamo parlato di Cassano. A breve ci sposteremo anche a Sibere perché tanto, tanto impegno, tanti candieri partiranno anche nell'abitato di Sibere perché l'intervento della mia amministrazione è sull'intero territorio comunale. Noi guardiamo il territorio in maniera orizzontale. Quindi io sono contento, sono gioioso insieme alla Giunta, insieme a tutti coloro i quali ci sostengono, insieme agli uffici competenti per questo grandissimo risultato. Ovviamente adesso inizia un'altra fase, quella di controllare affinché i lavori vengono eseguiti a perfetta regola d'arte, quella di controllare che i lavori vengono eseguiti nei tempi stabiliti. Mi pare che il capitolato, il contratto sottoscritto con l'impresa, prevede per la realizzazione dell'intervento 300 giorni. Quindi i lavori dovrebbero essere completati entro luglio prossimo. L'impresa però ci ha detto che spera di poter fare molto, molto prima. Insomma, le cose all'Europa le cambiano. La gente, i cittadini che hanno realizzato qui dei fabbricati vivono in condizioni veramente da terzo mondo. Questa sera devono prendere atto che l'amministrazione, la loro amministrazione, ha lavorato e ha portato a compimento un impegno che era un impegno di carattere elettorale. Non soltanto un impegno elettorale di campagna elettorale, ma un impegno che poi abbiamo tramutato nel Consiglio Comunale nel momento in cui abbiamo presentato al Consiglio e alla città le dichiarazioni programmatiche. Un impegno che noi abbiamo mantenuto. Noi siamo abituati a parlare quando è possibile parlare e a assumere impegno quando è possibile assumere impegno. Questo impegno pensavamo di poterlo assumere, l'abbiamo assunto e l'abbiamo mantenuto. Poi ci sono quelli che si divertono, si delettrono a scrivere, scrivessero perché noi non ci fa né caldo né freddo perché noi abbiamo il sostegno, la consapevolezza che la mia amministrazione, la nostra amministrazione ha il sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini castani perché andando in giro, in lungo e in largo, sul territorio troviamo soltanto adesione e non certamente censura.